Allora, vediamo un po' Massimo, Italia, xilofono 1, Charlie, chilo, november, portatile 1, Liguria, ponente, cambio? Perfetto, no? Ma sono molto contento anche di questa prova, eh? Sono molto contento anche di questa prova. Ho provato gli altri due sul vostro sito, ma quelli non li aggancio, però lui probabilmente ce l'ho quasi di fronte, quindi funziona. A te ancora, x1, ckn, portatile 1, Lovano. Sì, si confermo, è alle spalle di Deva Marina, che è la prima cittadina in provincia di Laspezia, tanto in direzione sul Nera, in direzione Laspezia. C'è Deva Marina, che è stato il primo comune, il territorio è Pezzino, e alle spalle di Deva Marina, alle spalle c'è questa... Eh, tutto bene, per noi la montagna, per voi, dicono che lei ha comprato la Corinezza. Comunque, sono un 800, no? E... passa un metro, 850 metri, e ripetelo, ho vincato lì. E dai, è stato bello trovarti stamattina, è stato bello provare adesso, è bella la radio, punto. X1, ckn, portatile 1, vai Massimo. India X-Ray 1, Charlie Kilonovember, portatile 1, ciao Max, buona prosecuzione. India X-Ray 1, Golf, Juliet Hotel. Grazie, ciao ancora, un abbraccio e 73 anche a tutti i colleghi eventualmente in ascolto del canale.